L'allarme è scattato a pochi minuti dal mezzogiorno di Ferragosto alla centrale operativa del 118 che ha attivato il soccorso alpino della pedemontana del Grappa per portare aiuto a una pilota tedesca di 34 anni precipitata con il parapendio dopo essere decollata dall'ostella alpina di Borso del Grappa. La giovane donna era rimasta sospesa su una pianta a 5 metri dal suolo, da qui è stata calata dai soccorritori risaliti con le tecniche di tricklimbing. Poco dopo una squadra è partita verso il comune di Romano Dezzelino dove in valle Santa Felicita ha recuperato un escursionista di 52 anni di Borso del Grappa caduto sul sentiero 952 del Cavallo e trasportato in elicottero all'ospedale di Montebelluna.